Sfuma negli ultimissimi secondi di gioco la vittoria al nuovo basket aquilano, che davanti a tantissimi appassionati sportivi che ogni domenica riempiono il Palangeli, deve cedere il passo a un solo punto ad una determinata Nova Campli. Dopo una partenza volante, i ragazzi di Cocci Stama, pur chiudendo ognuno dei primi tre quarti il leggero vantaggio, non riuscivano a dare la spallata giusta alla gara e nel concitato finale la maggiore esperienza di alcuni giocatori campesi e la difficoltà a trovare le giuste contromisure. All'Arcigna Difesa, zona degli ospiti, facevano la differenza. C'è il rammarico in casa aquilana per due punti gettati al vento e forse troppo preventivamente giudicati raggiunti, ma è una lezione che potrà servire ad una squadra giovane che sta portando la giusta amalgama in un campionato durissimo e in cui nessuno regala niente, come quello di quest'anno in Serie C Silver, Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria. Il cammino verso i pre-ops, obiettivo stagionale, è lungo ed il team del Palangeli saprà sicuramente regalare la giusta soddisfazione ad un pubblico che, anche ieri, era davvero coinvolgente ed entusiasta.